Abbiamo un'interrogazione presentata per, speriamo, il prossimo Consiglio regionale come Question Time in quanto la Regione Toscana, pur avendo tutte le competenze secondo noi per identificare e pianificare nelle zone di stretto la sanità stessa, sembrerebbe in qualche modo commissionato a Feder Sanità Anci la pianificazione appunto dei servizi sanitari nelle varie zone di stretto. Noi riteniamo che sia uno spreco di risorse commissionare ad altri perché da quello che ci risulta per ogni zona di stretto sono alla fine 26 con i vari accorpamenti, Feder Sanità Anci ha fatto un'ipotesi di 35 mila euro di pianifica di progetto per ogni zona di stretto, per 26 vuol dire 910 mila euro, quasi un milione di euro. Chi sono i referenti e i presidenti di Feder Sanità Anci in Toscana sono i direttori generali. Uno è Enrico Desideri, uno è Maino, Enrico Desideri direttore generale dell'area vasta sud-est e Maino invece direttore della programmazione addirittura dell'area vasta nord-ovest, soggetti che hanno sempre fatto i direttori generali, che sono pagati per fare la pianificazione e che si paga una struttura della quale loro sono presidenti, è una struttura a cui partecipano le asle insieme ai comuni, si ritiene che sia una cosa scandalosa se così fosse. L'interrogazione va proprio verso questa direzione. In Toscana c'è l'Agenzia regionale di Sanità, c'è il MES del Sant'Anna che hanno delle competenze dal nostro punto di vista straordinarie in grado di fare questo tipo di studio, di fattibilità, di progettualità. Lo stesso Dipartimento della Salute ha a disposizione fior fiori di soggetti pagati per poterlo fare, che si debba commissionare ad altri, sinceramente è poco accettabile. Quindi speriamo che ci si sbagli.